Vogliamo scuole più sicure, moderne e sostenibili. È questo l'appello degli studenti e delle studentesse pavesi che venerdì pomeriggio hanno organizzato un presidio in Piazza Italia, di fronte alle sedi della provincia e dell'ufficio scolastico provinciale. Chiediamo che le scuole siano effettivamente progettate verso il futuro e che quindi non vadano più a metano per riscaldare, ma per esempio implementino con dei pannelli solari sopra agli edifici scolastici, come in parte già fa il Copernico, ma che questa sia la prassi comune, non un esempio di virtù che sia la normalità stessa. E in generale che ci sia un'opera di sensibilizzazione dai professori verso gli alunni, ma anche degli alunni verso i professori. I ragazzi hanno chiesto di venire coinvolti nella discussione che riguarda l'uso dei fondi del PNRR. Quello dell'edilizia scolastica è un problema serio, spiegano e vogliamo dare il nostro contributo, ma al momento non abbiamo avuto risposte da parte delle istituzioni. Ma non ci hanno risposto per niente, non è che ci hanno detto di no, ma non ci hanno risposto, è questo il problema. Quindi oggi siamo qui per farci sentire e per far capire che questa è una cosa che vogliamo veramente e che deve cambiare, se no ci sono problemi gravi e diventano solo più gravi.